Garavaglia, vogliamo dirlo che Matteo Renzi è stato l'unico che ha eliminato i metodi tremendi di Equitalia? Invece della solita bottigliata? Ma in realtà gli ha cambiato nome e non è cambiato niente. Noi Lombardia l'abbiamo mandata via davvero Equitalia. Però finalmente si parla di cose almeno, perché la prima parte di questo pezzo di trasmissione è stato, dal mio punto di vista, Guardate, io vi ringrazio molto, a Rondolioni fanno schifo i servizi, a lei fa schifo la trasmissione, è un piacere avervi qui con me. No, 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 ma ci sono veramente contenta di averlo. Però ci piace molto la conduttrice, su questo non ci sono dubbi. No, a me piace trasmissione e conduttrice. Ma perché? Ma perché? Se hai fatto mezz'ora... Sono cose che non ti interessano, e quelle di cui abbiamo parlato prima, Garavaglia, parla di cenerentola. Perché se hai fatto mezz'ora a parlare di sigle, di destra, sinistra, PD, ex-PD, PD di Orlando, PD di Renzi, mentre non si parla di cose. E finalmente con questo servizio si parla di cose. Allora, parliamo di cose, perché prima Friedman ha detto una cosa sacrosanta. Il lavoro lo fanno le imprese sostanzialmente, mica le chiacchiere. E le imprese di che cosa vivono? Vivono di investimenti, di possibilità di operare. Il dato di fatto è che con il governo Renzi noi siamo gli ultimi in Europa. Quindi Renzi ha perso la scommessa e ha perso poi anche il referendum, soprattutto perché al di là di quello che c'era scritto nel testo di legge, la politica economica è stata bocciata. No, non ha perso la scommessa. No, poi chiudo, poi non parlo più. Il governo taglia, quest'anno taglia gli investimenti pubblici. Noi Regione Lombardia più 300%. Le aziende chiudono perché la PA non paga, 60 miliardi ancora non pagati. Noi Regione Lombardia paghiamo con 10 giorni di anticipo. Non c'è ritardo, paghiamo in anticipo. Queste sono le cose. Su queste cose si misura la politica, non sulle chiacchiere. Dopodiché la Lega di Salvini non è né a destra né a sinistra. Ha ragione di cose. Parliamo di cose. È trampista. Immigrazione, economia, Europa che non funziona. L'altro giorno c'era un giornalista tedesco, un mito, che diceva ma voi in Italia non siete capaci di fare industria e dovete occuparvi di turismo. Se questa è l'Europa, questa Europa va demolita e rifatta. Questo è il punto. Tutto qui.